Se non dormi! Ciao, sono Efisio! Oggi sono molto felice! Vedete? Mi hanno comprato lo smartphone! Bello sto gioco! Bello sto gioco! Voi! E' stato gioco! Ong! 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 Che sono! Il giorno dopo a scuola Come si fa questa cosa? Vieni qua! Vieni qua! Vieni alla lavagna! Dai! Vieni alla lavagna! Sì, vai in bagno! Vai! Vieni qui! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Ti metto quattro! Dice Sì! Noi ragazzi dovremo dare molta più importanza al sonno perché è un elemento fondamentale della vita. La mancanza di sonno può determinare diverse patologie come il diabete, l'ipertensione, il problema al cuore o venita. La riduzione di ore dedicate al sonno inibisce la produzione dell'ormone della crescita, indispensabile per il nostro sviluppo fisico-mentale. Non bisogna trascurare il sonno per usare i dispositivi elettronici, che sono la causa della riduzione del rendimento scolastico. Buonanotte, dolce riposo! Un corso Assirem, sogno sondesto, anno scolastico 2018-2019, classe prima A, istituto comprensivo Olbia.